Lei predilige un modulo oppure in base alla squadra che ha lei disegna? Io prediligo chiaramente un modulo, però mi sono anche adeguato in base alle caratteristiche dei giocatori che ho avuto, soprattutto ultimamente. Quindi questo non è un problema. Il problema, se mai ce ne fosse, è che bisogna fare una squadra attrezzata, che abbia la personalità di giocare con una piazza che è così calorosa ma anche esigente e che possa giocarsela con squadre che saranno attrezzate quanto il Cosenza. Quindi per il momento quello che mi preme è arrivare a questo tipo di soluzione, perché poi sono convinto che le cose non andranno male. Comunque lei non vorrei sbagliarmi, preferisce le squadre vocate all'attacco? O sbaglio? Tutti gli allenatori direbbero così, che gli piacerebbe giocare sempre all'attacco e giocare in modo spettacolare. Penso che questo sia un obiettivo di tutti gli allenatori. Poi però c'è da valutare il campionato, c'è da valutare la forza della tua squadra e semmai adeguarsi. Quindi in linea di massima a me piacerebbe giocare per vincere prima di tutto e cercare anche di dare un senso alla squadra. Però questo dipende da tanti fattori. Mister, lei crede che di materiale umano su cui lavorare della vecchia stagione? Al primo approccio che ho avuto con la società, principalmente con il direttore generale Marino, la prima cosa è stata proprio parlare di quello che c'è già a Cosenza, perché Cosenza poi è arrivata seconda e ha rischiato di vincere il campionato. Quindi ha dei valori assoluti, ci mancherebbe altro. Quindi di questa situazione, visto che io conosco sì qualche giocatore del Cosenza, ma non ho le idee chiare su quelle che poi sono le situazioni di permanenza o altro di giocatori del Cosenza attuali, di questa situazione mi lascio trasportare un pochino dalle idee che sono anche del direttore Marino. Fermo restando che anch'io ho alcune idee ed è chiaro che comunque in un campionato interregionale considerate che poi devi cambiare gli under più o meno o comunque una buona parte di essi, perché cala l'età e comunque qualche giocatore importante bisognerà prendere, qualche giocatore comunque partito, probabilmente ci può stare che magari la squadra del prossimo anno abbia un'identità completamente diversa, ma questo non la toglie che alcuni giocatori o magari buona parte di essi possano rimanere nella squadra.